Ciao a tutti, sono Paolo Goldaniga, siamo qua al Pescare Show di Vicenza e in questa occasione voglio con grande orgoglio presentarvi il Supernato Vitor, che è la grande novità 2016 che nasce dall'idea di grande proamericano Mighty Icon Man. Ho avuto il piacere di pescare con questo artificiale, quindi brevemente due caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere, le due alette rivolte verso il basso che consentono delle schippate molto profonde e un uoto molto sinuoso a galla, ma che consentono anche di affrontare ogni tipo di copertura erbosa, ninfee, cannetti, insomma è un'esca davvero polivalente per la pesca a galla. La seconda caratteristica importantissima è il doppio amo che collassa molto facilmente e aiuta a ferrare molto bene i pesci. Disponibile in sei colori per iniziare e di un peso di 17 grammi, altissima schippabilità all'interno delle coperture e un'incredibile personalizzazione dell'esca. Non si può utilizzare appropate, non si può utilizzare recuperi lineari, non si può utilizzare stando fermo nell'acqua. Insomma, non può essere un'estate senza un supernato vivo.